ciao a tutti bentornati sul canale youtube di easyarp allora oggi rispondo una domanda che mi ponete in tanti paolo qual è la migliore armonica per fare il bending piccola premessa sicuramente se ti interessa il bending imparare a suonare blues l'armonica diatonica è la categoria di armonica da preferire quindi il bending e la diatonica insomma sono praticamente un mondo unito specialmente applicato al blues poi esistono altre tipologie di armoniche tremolo cromatiche eccetera eccetera ma se ti interessa il blues il bending armonica diatonica diatoniche insomma ne esistono tantissime diversi marchi e diversi modelli adesso provo a suggerirvi insomma la linea guida da seguire poi andiamo a vedere insomma i modelli che vi suggerisco di utilizzare soprattutto l'inizio importante non scegliete armoniche economiche adesso vediamo qual è la l'indicazione più nel dettaglio però non non comprate armoniche da 10 euro e io dico adesso i prezzi sono anche aumentati e ce ne dobbiamo fare una ragione io prima ho sempre detto dai 25 euro in su questo probabilmente bisogna alzare un po il galleggiante però prima il riferimento indicativamente dalla special 20 in su andate a guardare quanto è il costo di una owner special 20 e da lì andate in su girate potete girarci un po attorno però se costa la metà lasciate perdere poi altra considerazione in generale è che voi non dovete pensare all'armonica per il bending dovete pensare all'armonica per suonare l'armonica quindi un'armonica che funziona che funziona bene sicuramente si presterà anche al bending quindi è molto importante la qualità in generale dello strumento adesso andiamo a vedere cosa ci mette a disposizione il mercato faccio un giro tra i siti ufficiali delle marche più importanti faccio un giro anche rapido su su amazon perché lì spesso ci sono delle novità e andiamo a commentare insieme eccoci qua siamo sul sito della owner la sezione armonica armoniche diatoniche allora vediamo un po abbiamo le armoniche vengono raggruppate in diciamo serie di una serie marine band progressive ms modular system adesso leggo per la prima volta serie enthusiast e poi le miniature vabbè quelle ci interessano poco allora nella serie marine band ci sono le varie marine band dalla classic coi chiodini alla versione deluxe crossover e poi ci sono anche armoniche con più fori adesso quelle che sicuramente armonica la marine band classic e la versione deluxe e crossover vanno benissimo sono armoniche si prestano proprio a questa tecnica tra la versione classic ai chiodini quindi un po un problema la manutenzione smontaggio e rimontaggio soprattutto se siete indecisi cioè comunque una marine band anche classic si piega si piega a chiaramente la tecnica non viene fuori dallo strumento viene fuori proprio dallo studio della tecnica quindi bisogna imparare a fare il bending poi chiaramente una armonica di qualità ci aiuterà mentre invece un'armonica di bassa qualità quasi ci impedirà di raggiungere lo scopo comunque dotati di una buona armonica e studia la tecnica la tecnica la devi mettere tu ecco quindi marine band insomma vanno bene tutto quelle 10 fori io vi suggerisco la deluxe eventualmente la crossover per una questione è di comfort soprattutto se sei all'inizio vuoi imparare a fare il bending e avrai salire rai magari un po più del normale quindi la laccatura e la protezione del corpo in legno dalla deluxe in su sicuramente è migliorata poi abbiamo serie progressive adesso qui abbiamo golden melody ok adesso non so se fanno più il vecchio modello ma anche il vecchio modello va benissimo cioè vi dico cosa funziona e cosa non funziona con del meno di ok rocket ok rocket amp pure rocket low no lasciala insomma se vuoi imparare a fare il bending non prendere armoniche in tonalità low special 20 super ok va benissimo armonica che io insomma suggerisco a chi comincia pentart lasciala perdere a se vuoi imparare il bending comunque la prima armonica prendi la in tonalità di do non partire da tonalità sol o fa che insomma troppo basso troppo alto perché poi non capisci bene inizia la tonalità di do ok poi abbiamo la serie ms allora qua abbiamo la blues arp chi mi segue sa cosa ne penso della blues arp insomma la serie ms che ha questa particolarità che gli elementi sono scambiabili blues arp io ti dico no ma in realtà se l'unica possibilità che hai impara anche con la blues arp però nel caso vatti a guardare video cosa ne penso della blues arp quindi non te la consiglio big river è già un po particolare eventualmente potrebbe andare bene masterclass è già un po più particolare anche costosa pro arp dal mio punto di vista un po duretta insomma io non ti suggerisco non non ti suggerisco la serie di indirizzarti verso la serie ms secondo me la serie marine band progressive funziona meglio dopodiché se tu hai un negozio vicino a casa che soltanto una blues arp prenditi quella ma sappi che io mi sono già espresso allora serie entusiast la qua scusate entriamo un po nel mondo delle no qui lascia perdere blu allora sono proprio sì poi può anche venire però sono armoniche economiche diciamo entry level però è un entry level proprio per capire come funziona lo strumento quindi non vuoi imparare a suonare blues con l'armonica di e tonica bending lascia perdere blues band no blues bander no sono solo nomi di marketing hot metal tanto meno silver star niente lascia perdere cioè esistono anche poi ogni tanto vengono fuori dei modelli poi le signature vai sulla tradizione e non sbagli bene adesso ci spostiamo sul sito della side del sezione blues sono tutte le diatoniche qui c'è anche il listino i prezzi di listino allora tutta la serie 1847 va benissimo non non partire da una bold body ok non le low partire sono tonalità di do quindi 147 lightning va beh qua siamo proprio a lusso sfrenato se proprio la zona più in armonica mi sembra forse un po esagerata invece 147 classic silver o eventualmente anche nobel vanno alla grande però insomma secondo me una classica o una silver vanno benissimo adesso poi non 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 optare per 12 fori queste saranno eventualmente curiosità per il futuro la session still si ok allora il mio parere personale che è un po duretta e quindi se tu sei all'inizio la tenuta è buona costruzione buona però se tu sei l'inizio magari puoi fare un po fatica con la session still sempre ance in acciaio però la 1847 dovrebbe essere un po più un po più facile quindi anche la questione della del materiale delle ance perché oner ance in ottone e invece sai del maggior parte ance in acciaio né che lancia in acciaio più difficile no no è una questione che cambia il suono sono delle ance in acciaio un po più tagliato ok sfarfalla meno è una questione anche poi di gusto di esigenze particolari comunque vanno benissimo le sai del anzi però proprio suonando le session still è un po duretta quindi se sei all'inizio ti consiglio una 1847 orchestra e se lascia perdere sono armoniche già un po particolari big six sono sfizi varie la session standard non te la consiglio si qua siamo nella fascia entry level della side però non te la consiglio session antique non te la consiglio siamo proprio e tra l'altro mi sembra che abbiano le ance in ottone a session standard però ascolta a poi nella pagina successiva allora la favorite è una buona armonica anche questa montale ance in ottone però già particolare cioè io le uso ne ho diverse però ti suggerisco quello che ti può aiutare anche la favorite magari lasciala per la solo la solist pro pure lascia perdere la mini quindi della side io ti dico vai su una 1847 se puoi permetterle e non sbagli allora sito della suzuki armoniche diatoniche allora io se ascolti me cerca di dare suggerimenti voi fate domande io rispondo poi siete liberissimi di decidere voi comunque suzuki mangi la suzuki mangi è un'armonica che funziona funziona è professionale performante a qui abbiamo le ance in fosforo bronzo il suono non è proprio come quello dell'ottone è un po più arrotondato anche qua però funziona e poi sono elettrosaldate quindi non ci sono i rivetti e comunque suzuki mangi e sei a posto poi va bella pura arp proprio realizzata con proprio le cover in legno queste sono sfiziosità anniversario va bene a shinobix questa è una cosa molto particolare questo un kit una specie di sordina che permette di mutare il suono dell'armonica quindi se avete problemi di vicinato che si lamentano o anche di coinquilini che si lamentano del suono dell'armonica questa è una una bella invenzione penso che possa essere montato questo kit soltanto su armoniche suzuki credo poi sì ci sono anche delle altre belle armoniche olive fabulus allora vedete però quale già è una forma un particolare vi deve piacere perché proprio un po tipo maister class della della oner però e mond pro master pro master valve art master blues master anche queste sono diciamo la parte un po più economica si funzionano questa ovviamente lasciate perdere ultrabando non ho a questa è già una no allora se ascoltate me prendetevi una se vi piacciono le suzuki provate una mangi e non tornate più indietro ok adesso siamo sul sito della li oscar che continua a produrre delle belle armoniche una fascia abbastanza più o meno siamo a livello della special venti come qualità e sono un po un po cambia forse sono un po diventato un po più costose se dovrei aggiornarmi comunque fondamentalmente un unico modello sono tutti uguali quello che cambia è l'accordatura la cosa bella della di oscar che ha tutte le accordature alternative comunque se tu è interessato al blues al band una major di toniche proprio questa è l'accordatura standard quella che ti interessa esistono in tutte le tonalità chiaramente penso anche low e anzi sicuramente anche low un ali oscar in do va benissimo paragonabile guanci nottone paragonabile a una special venti siamo lì il design è carino sono fatte bene quindi anche un ali oscar vai tranquillo allora dopodichè entriamo nel mondo delle marche diciamo orientali la double che è uscita fuori da non tantissimo tempo fa a diversi modelli di diatonica e se vi faccio però notare una cosa guardate la nobel della double io non personalmente non ho mai provato ma ho sentito vari pareri ho provato la la story forse anche l'ho provato anche una volta anche la nobel comunque se guardate la nobel e guardate la mangi guardate sono cioè la nobel così come c'era da bel così in particolare sul modello nobel così come anche altri produttori nel in oriente e comunque si riferiscono parecchio al design della suzuki comunque io ho provato anche solo una story va bene funzionano quindi non ho niente al contrario la contender è fondamentalmente una forma diversa insomma però tra tutte storie proprio entry level nobel decisamente più performante e questo è gli altri modelli non li tenere in considerazione comunque se ti eventualmente magari dalla parti secondo me parti da dalle marche più prestigiose più importanti più rinomate anche con una lunga storia quindi honor saidel suzuki anche lì oscar e poi eventualmente allargati anche solo per curiosità comunque double story o nobel eventualmente contender contender comunque si può fare adesso andiamo sul sito della istop allora qua allora esistono vari modelli la key 13 tra l'altro hanno già fatto una review è carina però non è un'armonica per imparare a fare il bending è già un po particolare unibili o una di tonica standard è una low e poi esistono questi modelli questo con la cover azzurra e questo con la cover grigia sembra legno come colore ma è plastica se non erro non dovrebbero andare male qui dovete provare non so dirvi con esattezza anche perché io mi riferirei comunque alle marche che vi ho citato prima però pare che funzionino pare che funzionino tra l'altro come fascia di prezzo siamo lì intorno adesso questo il prezzo in dollari poi magari dopo su amazon forse ci sono e comunque sono dai 25 in su potrebbero andare potrebbero andare esistono poi ecco poi sì ci sono anche però non le ho provate non le ho provate non vi so dire sulla sui vari modelli sì e no vedete voi insomma sono da testare poi ne proverò qualcuna al momento non ti posso dare un riferimento preciso adesso se faccio un giro su su amazon e cerco armonica so che tanti di voi vanno a curiosare e qui sono le armoniche su amazon allora vengono fuori allora come vi ho detto sotto i 25 euro dubitate quindi questa east rock improbabile a 10 euro questa a 20 euro della e stop questa invece a 25 95 che è una delle due che avevo d'occhiato sul sul sito della e stop potrebbe essere ma non ti so dire questa tempo e stop però guarda il prezzo 13 euro no allora molti di voi so che comprano queste fender allora la fender fa insomma è una marca storica di amplificatori chitarre anche altri strumenti poi iniziato a fare anche le le armoniche però lascia perdere ascolta me lascia perdere anche il prezzo te lo dice qui fender blues devil c cioè lascia perdere ascolta il mio consiglio non è un'armonica che è un'armonica che è di qualità poi qua casca ist rock niente questi sono praticamente armoniche giocattolo poi ci vengono fuori armoniche cromatiche e poi c'è un po un po di tutto se sei un cliente amazon vai a guardare sulla sull'amazon store di easy arp lo trovi linkato in descrizione dove io ho raccolto le armoniche per esempio armoniche in do questa è una selezione fatta da me insomma dove trovi una special 20 che a oggi costa 43 euro rocket rocket li oscar eventualmente suzuki e poi marine band nella versione sia deluxe che crossover fate un giro sulla pagina sull'amazon shop sulla pagina amazon di easy arp le ho raccolto armoniche per tonalità più vari altri accessori cose interessanti questo video è stato realizzato anche grazie al contributo dei miei nuovi patreon si perché ho aperto recentemente la mia nuova pagina patreon attraverso la quale chi mi segue può contribuire come sostenitore alla mia attività e quindi la famiglia sta aumentando sono molto contento voglio ringraziare di nuovo personalmente i miei patreon giunga 2174 atos marzeroli tarcisio castelli carlo marcomina fausto caff voi siete stati i primi ma si sono già giunti alla famiglia roberto donati arcangelo di santo alessandro conti walter giovanelli franco grigioni saturn 108 bender blues boy marco salo e claudio allevi grazie 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 ai miei patreon grazie di cuore se poi anche a te piacciono i contenuti divulgativi didattici artistici che metto a disposizione sui miei vari canali e valuta anche tu la possibilità di diventare mio patreon un piccolo contributo che per me vale tanto mi permette di continuare ad aumentare la qualità anche dei contenuti che trovi pubblicati su questo canale e poi come patreon avrai accesso a dei contenuti esclusivi disponibili nella mia pagina patreon bene un caro saluto a tutti e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao